In questa puntata, via libera alla proroga delle graduatorie per operatore socio-sanitario, e consiglieri materiale Avis per sensibilizzare alla donazione del sangue, in un libro l'incontro di Dante con la Lunigiana. Il Consiglio regionale ha approvato all'unanimità la proposta di legge per la proroga della scadenza delle graduatorie per gli operatori socio-sanitari. Sono ormai due anni che Forza Italia si batte per la graduatoria delle osse. È stato fatto un concorso nel 2021, a quel concorso hanno partecipato più di 4.000 persone, 2.600 sono coloro che stanno oggi in graduatorie, ma purtroppo di quei 2.600 quasi il 10% soltanto è stato chiamato. Quindi rimane un'ambizione legittima, che era delle persone che stavano in graduatoria, che avevano partecipato a un concorso, pagando anche 10 euro, di essere chiamati nel sistema sanitario regionale. Le graduatorie durano due anni. Io ho presentato diversi atti. Forza Italia si è sempre battuta affinché le osse, gli ossi in particolare, venissero assunti nel sistema sanitario regionale, dove manca diversi personali. Arrivata alla scadenza, perché il bando scade nel marzo del 2024, abbiamo presentato una proposta di legge alcuni mesi fa. Devo dire che tutte le forze politiche in questi mesi hanno lavorato sulla mia proposta di legge, cambiando alcune cose. La mia era una proposta di legge omnicomprensiva per tutte le graduatorie. Il Presidente Sostegni, in particolare, che ringrazio insieme a tutta la Commissione Sanità, ha fatto un emendamento che ha circoscritto l'ambito legislativo soltanto per le graduatorie delle osse. Se c'è una potestà legislativa regionale residuale per quanto riguarda le assunzioni delle graduatorie, la Corte dei Conti della Sardegna ci dice che laddove vi sono le graduatorie e non sono esaurite, dobbiamo attingere a quelle graduatorie, prorogando anche quelle graduatorie e non ricorrendo, per esempio, ai medici a gettone, perché si risparmia i soldi. Oggi si arriva a un voto all'unanimità che proroga di un anno quella graduatoria. Certo, l'ambizione oggi non è solo quella della graduatoria, non è solo quella della proroga, ma quella di attingere a quella graduatoria per andare ad esaurire e per assumere quelle 2600 persone che sono risultate idonei, che hanno partecipato al concorso e che ancora oggi stanno aspettando il proprio lavoro. La proroga delle graduatorie non era affatto scontata. Fino ad ora noi abbiamo avuto pareri contrari da un punto di vista giuridico sulla potestà legislativa regionale circa la possibilità di prorogare le graduatorie, perché ci sono delle norme che dicono che durano due anni le graduatorie, quindi non è assolutamente pacifico. Da un approfondimento fatto in Commissione, nell'analisi del testo presentato, abbiamo visto che ci sono dei precedenti, comunque dei riferimenti giurisprudenziali di Corte Costituzionale che sostengono la legittimità e la potestà legislativa regionale circa la possibilità di ampliare la durata a certe condizioni, per esempio la permanenza dei requisiti di professionalità di chi è in graduatoria. Quindi non è una materia assolutamente banale, è la prima volta che si fa, in altri casi in passato, in altre regioni, le leggi sono state impugnate, quindi abbiamo scelto con una mozione, con un emendamento presentato in terza commissione di limitare a un'unica graduatoria, quella degli OSS, che è quella più importante e meno utilizzata che per ora abbiamo, per capire e passaggiare anche la sussistenza della potestà legislativa. E questo è il tema che abbiamo affrontato oggi e che abbiamo deciso di affrontare con una legge che non è per niente scontata e che darà a chi è in quella graduatoria un anno in più per poter essere assunti. Per quanto attiene poi alla possibilità di assunzione, non ci auspichiamo che vengano assunti tutti coloro che sono nella graduatoria, però è evidente e sappiamo che c'è un limite forte alla capacità di assunzione della nostra regione che ormai ha già superato quello che è il limite, cioè la spesa storia del 2004, di vent'anni fa, ridotta dell'1,4. Noi speriamo che venga eliminato, permanente quel vincolo non è un problema d'assunzione degli OSS, è un problema d'assunzione di tutto il personale sanitario. È stato fatto un primo passo, quello di prorogare in maniera unanime la graduatoria delle OSS che sarebbe scaduta altrimenti fra pochi mesi. Questo è sicuramente un passo importante ma non è un passo risolutivo, nel senso rischiamo che anziché risolvere il problema a centinaia di persone che aspettano di essere assunte nel servizio sanitario regionale, gli creiamo una falsa aspettativa, quindi gli creiamo un problema ancora più grave. Adesso la regione di Toscana si deve impegnare a fare un piano delle assunzioni e deve smettere soprattutto di perpetrare, come sta facendo da troppo tempo, una prassi assolutamente sbagliata, per tanti versi illegittima, che è quella di attingere anziché alle graduatorie, assumendo in maniera regolare le persone, alle agenzie interinali, assumendo a spot magari anche le stesse persone. Quindi questa cosa qui deve finire specialmente nella sanità pubblica, altrimenti da parte del Partito Democratico e della sinistra smettano di sventolare la banderina della sanità pubblica e ci dicono che si fa altro. Questo è un atto di giustizia, è un atto di giustizia nei confronti di persone che sostanzialmente aspettano e hanno investito del loro tempo e non vedono risoluzione, in quanto purtroppo le aziende non fanno scorrere queste gradatorie. Per cui noi abbiamo cercato di dargli ancora un anno affinché le aziende prendano coscienza di questo problema. Io personalmente, come tutti gli altri gruppi avevano fatto delle mozioni, nella mia, diverso dalle altre, c'era anche per le altre operatori sanitari perché gli OSS sono sicuramente il numero maggiore ma se questa proposta di legge andrà a buon fine e una volta diventata legge verrà riconosciuta senza nessun intoppo vorrei, e ho la Commissione Sanità dalla mia parte, che venga estesa anche agli altri operatori sanitari in attesa di poter entrare nel lavoro. Naturalmente, e concludo, il tetto della spesa sanitaria rimane un punto cruciale che dobbiamo risolvere perché l'aggiramento di questo punto di bilancio attraverso degli escamotaggi è quello che non fa andare avanti la gradatoria e su questo ci impegneremo sia a livello regionale che a livello nazionale. Sì, la proroga delle gradatorie degli operatori sociosanitari è un atto importante, una storia che inizia con la nostra mozione portata in Consiglio regionale, un'azione bipartisan, devo dire la verità, l'ascolto dei territori, l'esigenza di tante lavoratrici e tanti lavoratori, l'auspicio, il sogno di lavorare nel sistema pubblico e soprattutto il monito che facciamo con forza alle aziende sanitarie che in questo anno questa gradatoria venga utilizzata, ci sia uno scorrimento effettivo, le persone vengono assunte a seguito di una selezione pubblica e trasparente e in questo caso serve fare in modo che queste persone possano lavorare nel sistema sanitario toscano e per l'appunto evitare processi di esternalizzazione, quello che è avvenuto in passato è che molte volte con processi di esternalizzazione poi non si faceva scorrere la gradatoria. Adesso che la gradatoria viene prorogata, l'auspicio che venga utilizzata è come tale, si possa coronare di fatto il sogno di tante lavoratrici e lavoratori di diventare dipendenti pubblici del sistema sanitario toscano. Una borraccia, un calendario da tavola, un volantino informativo sulla donazione di sangue, il bilancio sociale in pillole di Avis e un libro sul terzo settore e quanto è stato donato ai consiglieri per investirli del ruolo di ambasciatori di Avis per sensibilizzare i cittadini a donare il sangue. L'obiettivo è anche rilanciare la campagna ideata per invitare i cittadini toscani alla donazione di sangue e che ha vinto la seconda edizione del premio La Toscana che fa bene. Bandito dal Corecom in collaborazione con il Centro Servizi Volontariato Toscana per premiare la migliore campagna di comunicazione sociale realizzata nel 2022-2023 a livello regionale. Un bando e un premio a cui teniamo molto perché serve a mettere in evidenza, valorizzare le buone pratiche della comunicazione in particolar modo in questo ambito della comunicazione sociale e di rilevanza pubblica. Per cui siamo molto felici che ci siano state varie partecipazioni, varie richieste di partecipazione a questo bando e è stata premiata la campagna di Avis Toscana perché era la campagna che secondo la Commissione che era stata istituita aveva il maggiore dispiegamento di strumenti sia sul web, sia nei canali tradizionali, sia per quanto riguarda anche le affissioni nei mezzi di trasporto pubblico locale. Per cui in questo senso si inserisce in qualche modo nella storia delle campagne pubblicità progresso di questo Paese che dal 71 sono partite per sensibilizzare i cittadini, per avvicinarli all'istituzione e per dare un contributo importante come in questo ambito per esempio alla donazione del sangue. E proprio nel 71 la pubblicità progresso era partita proprio con una campagna in questo ambito e con questo scopo. Questa è una di quelle iniziative in cui dobbiamo andare fieri ed orgogliosi perché prova a raccontare attraverso le immagini i video, prova a raccontare quanto di bello le nostre associazioni di volontariato fanno. Una comunicazione sociale che arriva alle persone esattamente in linea con quell'idea che noi nella festa della Toscana abbiamo voluto portare avanti con forza, con le parole di Don Milani, I care o a cuore, con prendersi cura degli altri ed è quello che fanno le tante associazioni di volontariato e provarlo a raccontare così come ha fatto Avis Toscana che vince il premio come miglior video va esattamente in questa direzione. Complimenti a tutti coloro i quali hanno partecipato, complimenti al Corecom per il lavoro importante che porta avanti e davvero grazie a tutti i volontari che nella nostra regione svolgono un lavoro, un impegno enorme per le nostre comunità. Un anno positivo perché bisogna sempre andare avanti e con l'impegno che abbiamo messo anche con la nuova campagna Mettiti in gioco, dona il sangue e dona il plasma è il modo migliore per iniziare l'anno. Nel 2023 abbiamo tenuto quindi questa è già una buona notizia però venivamo da un 2022 abbastanza tragico quindi non bisogna mai guardare sempre avanti e come si dice sempre noi donatori rimborcarsi le maniche e donare sangue e plasma. Il premio del Corecom ovviamente ci ha riempito di orgoglio perché essere premiati a livello regionale con una campagna che aveva come scopo principale proprio quello di declinare il messaggio in tutti i territori della Toscana ci è sembrato un buon modo appunto per iniziare questo 2024 che sarà pieno di iniziative ci è sembrato anche carino omaggiare i nostri consiglieri regionali con un piccolo cadeau col merchandising appunto della nostra nuova campagna Mettiti in gioco, dona il plasma e dona il sangue. È stato presentato al Palazzo del Pegaso il libro di Giovanni Cittadini come l'uomo s'etterna il romanzo narra dei trascorsi l'unigiana di Dante Alighieri e del suo particolare rapporto di fiducia con il marchese Moroello Malaspina di Giovagallo Dante ha vissuto in tanti luoghi della nostra Toscana specialmente nei suoi anni d'esilio e in questo libro Giovanni Cittadini prova a raccontare il tempo in l'unigiana lo fa con spirito critico con grande approfondimento provando a darci un punto di vista glielo dicevo prima differente di Dante del Dante che noi conosciamo nella letteratura classica e sono orgoglioso che oggi questo libro si possa presentare qui in Consiglio regionale. Si tratta di un romanzo che tratta delle vicende affrontate da Dante nel suo soggiorno in l'unigiana nel suo soggiorno in l'unigiana Dante viene ospitato dai marchesi di Giovagallo il marchese Moroello Malaspina di Giovagallo e la sua consorte Alagia dei Conti Fieschi di Lavagna noi abbiamo costituito appositamente un comitato il comitato Castello di Giovagallo luogo lontesco per studiare e approfondire la vita di queste due persone che hanno, di questi due grandi personaggi lunigianesi che hanno ospitato Dante in un periodo particolarmente difficile della sua vita abbiamo la certezza che Dante si ferma in l'unigiana per almeno un anno o forse due e probabilmente poi ritorna anche altre volte perché la sua relazione con i marchesi Malaspina diviene una relazione di fiducia di amicizia tanto è vero che Dante elogia i Malaspina in Purgatorio Ottavo in un modo che non è dato a nessun'altra casata sono qua per testimoniare l'importanza dell'orma di Dante in lunigiana che è attestata soprattutto da un elemento particolare che abbiamo riconosciuto nel canto ottavo del Purgatorio cioè Dante tesse l'elogio dei Malaspina con una formula assoluta facendo riferimento alla prima terzina del poema Dante dice la vostra famiglia onorata rivolgendosi a Corrado Malaspina giovane marchese di Villa Franca in lunigiana sola va dritta e il mal cammin disprese quindi un calco della prima terzina del poema con la nota metafora della selva oscura e della diritta via questo ne fa un elogio assoluto insuperabile nella lingua della divina commedia sentirsi dire tu vai sulla diritta via è effettivamente un elogio insuperabile lo ricevono solo in Malaspina questo è molto indicativo per cui noi auspichiamo sulla forza dei nostri studi che si passi d'ora in avanti auspicabilmente da un triangolo rappresentato da Firenze e Verona e Ravenna a un quadrilatero Firenze e la lunigiana e Verona e Ravenna a un quadrilatero a un quadrilatero